e' o che vuole равно perfettamente no no si ragazzi wants it mio broguello cambiate il canale guardate marciata e macchiatini e benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a fare nascondino estremo Non lo farò con mamma Giulia ma lo farò con Lullo di Gamburi Il figlio Diego Però non lo sa ancora Diego Io lo devo svelare Diego Cosa c'è che è uno portato? Allora ti devo proporre una sfida Quale? Facciamo una scondina tremo Cosa? Una condina tremo Non possiamo fare una condina normale No Diego lo facciamo sempre Eppure non sai cosa significa Nascondino estremo? Te lo dico subito Anche per voi a casa Aprite bene le orecchie E potete farlo nascondino Con amici, parenti, fratelli, mamma, papà Di tutti Ok? E Diego ecco perché l'ho chiamato Nascondino estremo Perché si può nascondere dappertutto Dentro la casa, fuori la casa Nel giardino Dappertutto Anche fuori casa Ok? Quindi nascondino estremo Vuol dire che tutti i nascondini sono validi Allora facciamo carta foglia a pietra Così vediamo in seconda Anzi prima di farlo C'è una sfida? Io le fide non le ho riusciuto Mai Ok Diego Quindi Carta foglia a pietra Carta foglia a pietra Adesso con di tu Fino a 10 Va bene 1 2 3 Ragazzi come prima nascondiglio Sto arrivando a raradio Sto arrivando a raradio E a 5 Oh mamma Oh mamma Oh mamma Oh mamma No 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 Idea 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 Ragazzi ragazzi Andrò andrò di dietro Praticamente andrò di dietro Ciao 2 3 G Venaciacatti Ragazzi Andiamo a cercare Chiara Lei è dietro Chiara Come si sta la Cacciata Andiamo a cercare Perché è il bagno No Come si sta la cacciata Forse In camera da letto Ecco ti No Don Mi voglio Contare Ciara Ciara Se ti prendo Conti tu Tanta Non mi prenderei mai Vediamo un po' Pesa Ciara E penso Tocca a te E va bene Tu hai contato Io te l'avevo detto Fino a 10 Vabbè Ti conto anche io Fino a 20 1 2 3 Ehi Chiara Non bisciali Ti sto guardando Chiara Non bisciali Guarda che Guarda che sono guai Così con quella faccia Poi 1 2 3 8 5 6 7 8 9 10 18 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Chi c'è 20 20 20 22 23 23 23 24 25 25 25 20 20 20 23 25 25 25 26 27 28 28 29 29 30 30 30 30 30 30 30 21 28 30 31 32 31 32 33 35 35 35 36 fuori andiamo a cercare di là ma non c'è come c'è la casciata magari la finestra non c'è niente sarà dentro come c'è la casciata andiamo a cercare di là magari c'è la coda ah no qua non c'è va bene va bene no non c'è chiara allora andiamo a contornare in bagno non c'è poi non c'è mi sto popocando cosa sarà finita chiara puoi uscire non esce ragazzi c'è una mamma voglio vederlo mi sto popocando ciao amore ciao mamma come mai mi ha chiamato dimmi che succede perchè chiara non la trovo più come chiara non la trovi più no ho ho controllato da tutte le parti ma non la trovo più e in che senso che cosa stavate facendo stavamo giocando una condina poi si è compatta si è compatta del nulla no aspetta aspetta un attimo diego cerca di spiegarti bene fin dall'inizio allora stavate giocando a che cosa a una condina ok e poi che cosa è successo è compatita chiara e io che cosa ci posso fare amore sono lavoro puoi venire aiutami a cercarla allora hai controllato in camera si ho controllato dappertutto sei sicuro si ti sei anche arreso si diego ma non è che l'hanno rapita non so mamma per favore veni subito va bene dai arrivo dammi tempo due minuti e sono da te ok ciao che mi sta facendo venire l'ansia ok ciao guardate ho richiamato la mamma oh mamma mia vado a cercare un altro nascondiglio allora mia mamma venne da 5 minuti ok ragazzi allora mamma mia un'ansia la mettiamo la mamma eccomi diego sono arrivata si allora che cosa succede dove è chiara non lo so forse l'hanno rapita come l'hanno rapita perchè l'ho trovata fuori in casa non c'è allora sei sicuro che non l'hai trovata si non è per uno scherzo dei vostri giusto no promettimelo però prometto mamma mi raccomando ok vabbè mi sa che io la cerco un attimo e vediamo un attimo se puoi chiamare la polizia o no ok andiamo allora diego in casa non c'è e non l'ho trovata allora adesso mettiti la giacca e le scarpe che andiamo fuori a cercarla ok mamma sono arrivata ok possiamo andare allora andiamo alla ricerca di chiara allora diego mi raccomando devi sempre tenere gli occhi aperti ad esempio tu hai mica notato qualcosa di strano no 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 non c'è mamma ci sono le chiavi attaccate alla porta forse qualcuno è entrato e ha preso chiara la pita non lo so andiamo a vedere diego ma tu stai intendendo queste di chiavi sì scusami ma fino a prima non c'erano no poi scomparsa chiara e le chiavi sono apparse magicamente sì non è che magari chiara si è nascosta fuori no perché c'era tratta ma voi quale state facendo di nascondino che nascondino stavate facendo nascondino estremo sai che cosa vuol dire nascondino estremo che io ho sempre chiesto a chiara di non farlo mai 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 ciò non volevo fare e perché tu hai accettato vabbè niente dopo ti sgriderò e vedrai che ci saranno guai anche per te adesso cerchiamo chiara allora nascondino estremo vuol dire che tutto i nascondigli sono validi addirittura sono anche validi fuori dalla strada quindi dobbiamo andare a cercare chiara in strada magari qualcuno l'ha rapita magari chiara non c'è più e adesso sai di chi è la colpa? sì tua buon non ci pensiamo buon andiamo andiamo lo rubano fuori e mi lasco da dentro aiuto aspetta e mi metterò bella comba con il divana mi metterò il tuo freccia e mi aspetterò qua al caduccio e soprattutto tana Diego io veramente non ho parole e chiara non ho più quali idea di dove sia io Diego adesso non so che cosa fare sicuramente dobbiamo chiamare la polizia perché se chiara non era fuori e qualcosa è successo sicuro è bene quindi adesso andiamo chiara chiara ciao tana comunque come sei una cotta ehm sono andata fuori dalla porta cioè non in giardino fuori fuori nella strada nella strada mica si poteva il cielo non in macchina perché passava no ti ho detto che era ovunque il posto quindi anche in strada quindi è colpa tua ma è colpa anche tua non è vero quindi quindi non mi interessa no è anche colpa tua ok quindi adesso io andrò a parlare con vostro padre della vostra punizione e tornerò subito da voi ragazzi non mi sono neanche ancora tolta la giacca e volevo dirvi che la punizione che ho pensato per chiara e per diego deve essere abbastanza esemplare ci dovrò pensare un attimo ma soprattutto voi mi dovete dare una mano quindi lasciatemelo qua sotto nei commenti e secondo voi che punizione si meritano figlia chiara e figlio diego per quello che hanno combinato oggi con il nascondino estremo e nel mentre glielo andrò a dire che sarete voi a deciderlo mamma mamma e arrivo andate di là sul divano subito eeeh adesso la mamma l'ha abbiata con me e non sono arrabbiata solo con te sono arrabbiata con tutti e due e eeeh allora prima che la vostra punizione si raddoppi allora zitti ragazzi qua sotto nei commenti i nostri amici follower decideranno loro qual è la vostra punizione quindi siete pronti? si iscrivetevi al canale attivate il canale allora ragazzi nel mentre che loro stanno giocando non so che cosa stanno combinando vi volevo dire che mi raccomando ogni volta che giocate a nascondino nascondetevi sempre all'interno di un posto sicuro perché a farvi male ci vuole veramente poco quindi ragazzi mi raccomando non uscite mai di casa se non in presenza di un adulto e soprattutto che qualcuno lo deve sapere dove è stato andando ci vediamo domani con un nuovo video perché domani c'è l'incontro col nuovo presunto pseudo fidanzato che abbiamo scelto noi per macchietta quindi ci vediamo domani con un nuovo super video a domani a domani